Sono state depositate le motivazioni della sentenza della Cassazione con cui è stato assolto definitivamente il maresciallo Giovanni Cunsolo nell'ambito del processo per la morte del giovane di buon abitacolo Massimo Casalnuovo. Ad avere determinato la decisione della Suprema Corte, il cambio di versione in questi anni del testimone chiave e l'impossibilità di ricostruire con assoluta certezza cosa abbia determinato l'incidente mortale. Massimo Casalnuovo morì il 20 agosto 2011 dopo aver battuto la testa cadendo dal motorino ad un posto di blocco dei carabinieri. La battaglia giudiziaria si incentrò da subito sulle presunte responsabilità del maresciallo e su un calcio che questi avrebbe sferrato al ciclomotore che non si era fermato allo stop dei carabinieri. Una circostanza che una parte degli istruttori aveva escluso e di cui la perizia tecnica svolta su impulso della Corte d'Appello non aveva trovato prove, non essendovi residui della scocca del motorino sulla scarpa del maresciallo né viceversa frammenti della gomma della calzatura in questione sul ciclomotore, particolari questi già emersi in primo grado. A tali elementi si è aggiunta la contraddittorità di un testimone, quello che subito dopo l'incidente riferì di aver visto il maresciallo sferrare il calcio con il piede sinistro e che poi anni dopo parlò invece di un calcio dal piede destro, un adattamento che la Corte di Cassazione ha ritenuto connesso alla necessità di sorreggere l'accusa e dunque non spontaneo, tanto da finire per screditare l'intera testimonianza. Di qui la sentenza di assoluzione del maresciallo è arrivata lo scorso 30 settembre che, si comprende oggi leggendo le motivazioni, è dovuta al fatto che non è risultato possibile ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente e le sue cause, correlando con certezza la caduta e il decesso di Casanuovo al calcio. Tanto più che una parte dell'istruttoria ha legato l'evento alla manovra di investimento del militare da parte del ragazzo e alla perdita del controllo del mezzo con conseguente caduta. La Cassazione ha di fatto confermato quanto stabilito a sto tempo dal gruppo di Sala Consilina, ha detto l'avvocato del maresciallo Renivaldo Lagreca. Tutti i gradi di giudizio, fatta eccezione per quanto stranamente avvenuto a potenza, hanno confermato la sentenza di Sala Consilina, che fu attenta e analizzò nei minimi dettagli la vicenda.